È doppio. L'avrei coperta per questo show ma niente. Però la richiesta di Marina si fa sempre più insistente e vorrebbe vedere Silvia in versione Sharon Stone, ma arriva prontamente la risposta della nostra protagonista. La biondazza arriva addirittura a supplicarla, ma Silvia continua a fare orecchie da mercante. A questo punto entra in gioco l'ospite in studio che sembrerebbe dar ragione a Marina, affermando che dietro le quinte la dolce Silvietta darebbe spettacolo, e la nostra affascinante fanciulla non la prende bene. Non vergognarmi così in diretta. La rabbia di Silvia dipende dal fatto che l'ospite ha invitato le fanciulle in studio a recarsi nei camerini perché c'è una registrazione rivelatrice. Andate a vedere Marina. Insomma Silvia sembra non tollerare più la presenza della signora con il caschetto, e lo dice pure apertamente. Che mi infastidisce sotto sarà la musichetta. E alla fine arriva l'affondo finale su colei che pensava fosse una vera amica. Pensavo di avere un'amica. Quindi invita le telespettatrici a casa a diffidare di chi si comporti allo stesso modo. Se avete un'amica così, lasciate perdere. La signora in studio continua a prendere la situazione sotto gamba ma tra una risatina e l'altra irrompe Silvietta in modo categorico. Denuncio il fatto pubblicamente. Nel rivelare le sue intenzioni Silvia dalle spalle all'ospite che però subito comprende quale sarà il suo destino, perché conosce molto bene i modi della nostra bella fanciulla. Capisce quindi che quel gesto equivale alla morte. E a telecamere spente Silvia non usa mezzi termini e le dice io ti ucciderò. Spiegando anche come si muoverà in futuro. Insegno i codici sull'agenda e poi aspetto l'occasione giusta. Ma la mora accanto è già pronta a fornirle lo strumento giusto. Un ferro normalissimo. La signora in studio è talmente determinata a sostenere la dolce Silvia che le propone anche una dimostrazione dal vivo. Così da spiegarle minuziosamente ogni singolo passaggio. Pronta a farci una dimostrazione. Eccolo qua, arriva anche naturalmente il guantino. Oltre al guantino arrivano anche tantissime chiamate e messaggi di signore desiderose di capire se lo strumento sia o meno maneggevole. Ma la dolce Silvia le rassicura prontamente. Prenderete la mano in questi 30 giorni. Ma per imparare a maneggiarla con destrezza e prendere la mira bisognerà attendere un po' di mesi, precisamente fino a... Fine maggio. Alla fine della diretta la bella Silvia si rivolge alle amiche a casa e dice qualcosa che ci lascia comunque con il dubbio. Vi faccio rivedere... Insomma il mistero si infittisce e forse le due biondazze avevano ragione. A questo punto non ci resta che concludere con la solita puntualizzazione. Ragazzuoli belli anche questo video sta volgendo al termine, e spero sia stato di vostro gradimento. Grazie mille della visione e arrivederci al prossimo appuntamento.